Non è difficile pensare che non state facendo il taxi per portare l'estrema destra in parola. Il taxi è una frase che te la ricaccio in gola perché è di una stupidità assoluta. Io non sono il tassista di nessuno e quindi te la ricacci proprio in gola quella frase.